ci sei zio fammi un bel sorriso bella ok oggi proveremo a distruggere sto carro che anzino dietro di me con ragazzi che posizioni di tutti per favore tranne quella di sic e zeo e cercando di arrivargli sotto per piazzare la carica non è assicurato che riusciremo ma se riusciamo dove sei facciamo un bel botto ok attenzione fumo tira in direzione ok provo a lanciarmi a sinistra e a fare da via ok cartina di fumo funziona vieni contro il muro giù basso o cazzo c'è il muro aperto rimani leggermente a sinistra zio ok ci siamo hai altri fumogini passameli mettili sullo zaino ti sei quello sdraia da terra no ok ce li ho recupero ok dovete giocare che è fumogine ok seconda parte dell'azione ragazzi qui c'è un'apertura buona 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 occhio io strisce vado a mettere una carica io ti aspetta che facciamo una cortina di fumo prima però l'arrivarci ok vado sotto negativo il fumo il fumo deve essere lanciato panciato a ovest dalla parte dallo siamo venuti non è abbastanza copertura di fumo davanti spiscio affermativo vai negativo aspetta che provassimo ragazzi sono morto rispondiamo ok ok siamo operativi si sta avvicinando al mezzo ok ragazzi il mezzo sotto il mezzo il mezzo non se ne ha accorto ok ci sta andando anche zio una carica piazzata sime e sfiltra in direzione nord nord est ne metto un'altra si si però è sfiltra in direzione nord est il fumo sta quasi per andare via rapidi rapidi si che siete 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 medici affermativo completiamo l'operazione entrato sono dietro la cava faccio soltare le cariche vai 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 si chiama danni collaterali ok carro distrutto il caro distrutto il nemice a terra cazzo è rimasto zero era rimasto eh lo so l'ho detto non ho sentito zero scusa tu sì ma sei vivo sì ma io sono vivo Gli hai dessas C'è sotto la canzoncina alleluia non la senti no no nessuno è vero n si è un fantitto segno questa è una completa ma grandioso questo volete uno screen visto